Allora ragazzi, finalmente posso portarvi il video della After Sage, della Arter Sage Che è stata cambiata veramente bene, potente, veramente forte ragazzi Gli hanno fatto... allora, perché non me l'ho portato oggi? Quando è uscito e adesso ve lo porto? Perché il personaggio con una passiva doveva staccare le cose, per fare cose Che adesso vi spiego, allora, che cosa gli hanno cambiato in quella passiva? Prima di tutto, la prima passiva che è questa qui, gli hanno aggiunto il Devasto, mi pare Che adesso è 15-15 Poi, hanno cambiato gli effetti della skill questa E poi hanno cambiato una passiva Hanno cambiato la passiva, questa qui Che adesso prendiamo col... a parte che facciamo sempre la solita cosa Allora, che cosa farebbe? Lei ogni volta che lancerà una spell di fuoco, di ghiaccio, di vento Questa passiva porterà la forza della saggezza con il fuoco Questa passiva serve per avere tante stack per potenziare le varie spell Come notate, questo personaggio ha... a parte alcune spell Riesce a staccare... prima, provandola, facendo le cose Non riusciva a fare gli stack Velocemente, come adesso state vedendo E per lei comportava di non fare quello che fa adesso Che è veramente forte Cioè, guardate, ogni volta che fa una cosa Lei fa un botto di cose E adesso, se vedete bene Poi vi farò vedere la differenza che c'era Questa passiva gliel'hanno ridotta a... Ad avere 30 stack per fare lanciare al suo meglio tutte le spell possibili, immaginabili Ed è diventato veramente una cosa oscena, sto personaggio, ragazzi Che... mi complimento per chi ha fatto questo rework Veramente, mi complimento per loro Perché hanno trasformato... un personaggio che veramente tutti odiano Odiavano Anche se tanti la usavano Ha un buon personaggio, eh Che comunque... Avere tante stack Ce ne stanno pochi personaggi per avere stack Per avere... Le skill potenziate veramente forti, eh Essa non... non c'ha ragione Cioè, guardate quante stack sta a prendere Sono... è quasi arrivato a 30 con questo massimale Veramente forte Che cosa hanno fatto? Allora, ogni volta che lanciamo delle skill di fuoco o di ghiaccio o di fulmine Avviremo le stack Poi se arriviamo su tutti e quanti le stack Delle stack Arriviamo tutti e quanti a livello 30 Avremo una cosa veramente potente Questa qui che è etero Etero Che, allora Dovrebbe diccelo Allora, cosa fa etero? Migliora le magie elementari Quindi fa un botto di roba in più Diversamente da... Dalle cose Fa questo Come notate Finché abbiamo etero Avremo Questa spell migliorata Quando Finché abbiamo etero Avremo Finché avevamo etero Questa spell era molto più Forte E... Come notate È diventato un ottimo personaggio adesso E me ne... Assumo la colpa che ai tempi la... Insultavo Gli dicevo che è un personaggio di merda Perché prima era un personaggio di merda Adesso è un bel personaggino Che potete Che comunque Fa il suo Perché comunque nei raid boss Sta spell Mobile Non devi muovere E poi comunque Puoi usare il TP E poi Comunque guardate Quando accumulazione Ha fatto più accumulazione Con una spell del Di fuoco Che con le altre Non ci mettiamo Non ci prendiamo in giro Ha avuto un'accumulazione enorme Con quella spell E basta Veramente forte Non gli hanno Non gli hanno reworkato Nessuna spell A questa classe A questo PG Gli hanno solo Buffato la sua passiva E... Gli hanno buffato Anzi Due passive Gli hanno buffato Questa qui Che vi ho detto Che adesso fa 30 stack E questa Che adesso È tornato Spettate Lightning Bolt Fa ciclone E Gaster Storm Fa lightning shower Quindi Tornado Fa pioggia improvvisa Richiamo del meteorite Fa tempesta Di scheggia ghiaccio E Lancia Lancia di ghiaccio Cerchio invuocato Hanno aggiunto Un elemento in più Che è colpo i fulmine Che fa ciclone Ok Niente ragazzi Queste sono Le build Che cosa fa Allora Passo invuocato È una cosa così Che fa queste cose Da delle stacche di fuoco Alla cosa Però ha una piccola Particolarità Che Non avete La cosa Meditazione Il tempo di attesa Si riduce del 200% Della velocità Non male Il TP Che si usa In ogni Singola iscia Colpo di fulmine Che è stata cambiata Come vedete Con il miglioramento Fa queste cose Poi abbiamo Questa qui Che è Grandine meteoritica Che comunque Anche lei Dà un ottimo Aiuto in più Questa che è Comunque un ottimo Clear Per il personaggio Perché non ne ha Lei Molti E poi abbiamo Questa perché Non sapevo che Spell del fulmine fare È veramente forte È veramente utile Ed è fortissima Poi le sue due skill È Una è questa E poi la sua main skill Che è questa E oh ragazzi Buttatela via Voi mi direte Grandine meteoritica Fa più danno Per fare quel danno Devi tenere premuto La spell Quindi Occhio A quello che dite Poi Io stavo pensando Di provare ciclone Però Che tolgo Forse togliendo questo Fa qualcosa Ah vabbè In verità Potrebbe essere carino Fa ciclone Un bel ciclone potenziato Quando c'hai Tutte le stack Tipo facciamo così Facciamo così Facciamo così Ecco vedete C'è un po' di chance Di lanciare le varie spell Delle skill Delle skill È veramente forte Come cosa Non capisco Come fate a dire Che Cioè La sua pecchia Ve la faccio vedere Nel video È che Prima Devo arrivare a 50 stack Per atteguare Eterio E adesso Gliel'hanno risolta Con una balance Veramente più forte Io Ragazzi Sincero L'approvo Perché comunque Vedere un personaggio Che comunque È cari È forte Perché Tanti gli piacciono Questa classe A me Non piace moltissimo Però Fa il suo È veramente carina Fa delle cose assurde E comunque Quando fa delle spell Potenziate Consuma 5 stack Di Di quelle skill Che lanciate Tipo questa Quando lanciate Una spell Toglie 5 Però comunque Il fuoco C'ha questa Che comunque Dà delle stack In più Le prendete Tutti In un colpo solo Quindi State tranquilli Invece Poi C'è questa Che è cambiata Tantissimo Guardate quanti D'anni fa Veramente forte Cioè L'hanno cambiata Bene Sta classe Mi piace Il cambiamento Hanno fatto Un ottimo Cambiamento Che Non mi aspettavo Da Per questa Isha Che comunque Non è da sottovalutare Adesso È veramente Forte Questo è il set Rosso sangue Per i dps Perché lei Comunque È nata come dps Non come support Questa è la build L'emblema è solido Aumento l'attacco magico Le passive Cambiate Hanno solo Cambiato queste Due passive Basta Su delay E di skill Nient'altro Prima era 50 stack Quella Quella passiva Questa qui Adesso è diventata 30 Che è ancora Più facile Però Ottimo PG Potrei farvelo Vedere Un attimo Contro i vari Mob Ma si dai Vi faccio vedere Più la sua main skill Allora Facciamo però Quello di pietra Indifeso Andiamo in accresci potere E lanciamo questa Che comunque Come notate Se non abbiamo Le stack Non vedremo mai La skill potenziata Del ghiaccio Ok Vediamo adesso Un attimo Ok Vediamo Poi Vediamo un po' Vediamo un po' Allora Riproviamo Anzi Proviamo ad avere Tutte le stack Così vediamo I danni Che potrebbero fare Tutte le skill Tanto Stacca Stacca Comunque Ha staccato quasi Tutto fuoco Quindi facciamo così L'ultima stack Del fuoco Dove sono le mie Ultime stack Eh Dove sono Ok Ce le ho C'ho etereo Vediamo quello che succede Beh dai 52 Contro un boss Piccolo Vediamo un grosso Grande di pietra Sempre con Le solite cose Facciamo le stack Eh Ho sbagliato Scusate Vediamo adesso No Ho sbagliato Di nuovo Oppose Scusate Ragazzi Vabbè Questa è la normale Che potrebbe Fare danno Come non potrebbe Io voglio Vedere più Quella potenziata E migliorata Non quest'altra Vediamo Questa Ecco Adesso Vediamo i danni Se usiamo La versione Farlocca Fa schifo La versione Farlocca È quella Non potenziata Ragazzi Invece Quella Non far Quella Farlocca Allora Sincero Ciccolo E ne lo userei Solo per Anzi Tornato Tornato Che cazzo era Aspetta Era questo Ok Cioè Potrei Togli Questa E mettere Questa E vi faccio vedere Guardate Questa Già Dà più Stack Per farvi vedere Comunque Questa è Ciclone Che dà Le stack Elettro E fuoco Che se volete Potete farle Tutte quante Allora Accresci Questo 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 67 Contro i boss Grandi Comunque Non sto Nemmeno Con gli anelli Sto Con il set Penso Non settato Si È settato Vediamo Adesso Vabbè Penso Che Dov Calcolando È un 60k 72 Vediamo Potenziata Da tutto La cresci Potere È tutto Fammi Staccare Un po' Di Passiva Ok Vediamo Adesso 68 Ok Adesso Vediamo Quelli Lunghi Aspettiamo Che la passiva La trascendenza C'è Mettiamo Open La passiva Ci baffiamo L'attacco Magico E vediamo Il danno 97 Non è Fatto male Perché Comunque I danni Li vediamo Non c'ha Nulla Di guardiare Dalle altre 4 ish È diventata Una bella Isha Veramente Fortaccia Il set Che consiglio È questo Devo anche Sistema Le Stats Quindi Forse Anche per Quello Che non Fa danno Però Ragazzi Approvata È diventato Un bel Personaggio Un bel Classaggio Bravo Cog Continuate Così Ci vediamo Un prossimo Video Che non So Chi Sarà Forse Inizio Dai Dai Lesis La Quarta Perché Così Vi Faccio Vedere Quella Cosa Della Cresce Potere E Poi Facciamo Le Altre Tre Ci Vediamo Ciao Ragazzi Di